beata judith di disibodenberg trapassata nel 1136 beata sorella del conte di spaneim si fece reclusa in una cella vicina alla chiesa abbaziale di disenberg dove le fu affidata l'educazione di santa ildegarda altre discepole si radunarono intorno a judith e lei le organizzò in una comunità benedettina che governò per vent'anni perché la vocazione religiosa di quei paesi così fiorente nel medioevo si è spenta quasi del tutto commento perché quella comunità fisica che comprende vari popoli affini per evoluzione raggiunta si è avviata verso la religione della coscienza non a caso la comunità fisica che comprende vari popoli sudamericani ha ancora bisogno di una religione esterna